Ciao compagni di scuola, come state? Ehi, come siete nervosi? Sarà mica per il ritorno della DAG? Ma gli aspetta un pugno? Ma è normale? Le prime delusioni del governo, non si scordano mai eh. Qualche giorno fa vi ho chiesto su Instagram questo. Ciao compagni di scuola, come state? Cosa ne pensate di questo ritorno della didattica a distanza? Fatemelo sapere qui, perché potrebbe diventare una nuova puntata dello sfogo. Vediamo insieme cosa mi avete risposto. Lo sfogo! Ti svegli, dici presente e torni a dormire. Emoji delle stelline. Ovviamente non è quello che fanno tutti. Come? Ah non posso dirlo? E se lo dicessi con le stelline come ha fatto lui cambia qualcosa? Se tu lo vuoi tu lo sarai, una di noi. Se tu lo vuoi tu lo sarai, una di noi. Donne, lo so che dopo questa scena avete gli ormoni in su buio dinnanzi a tanta virilità, ma cercate di contenervi. Sono fidanzato. Ma fate uno scombartimento a parte per questa agenda. Na merda. Su via ragazzi, non siate volgari. Anche se in effetti questa risposta potrebbe essere la risposta perfetta per ogni cosa. Non ci credete? Hi bro, allora cosa si dice di bello in Italia, eh? Na merda. Oh ma insomma capisca la tua? Na merda. Vabbè vai, e invece sto lockdown? Na merda. Senti un po', ma sta fidanzatina quando ce la riconosce, eh? Vabbè mi sono spiegato. Una cazzata visto il fatto che il governo ci ha speso molti soldi per banchi singoli e nuovi. Freccetta. Senza batterie e trasporti subito. Qui di norma metterei il classico meme del clochard che dice Parla bene, usa l'educazione, è chiaro? Però oggi no. Oggi non ci piegheremo a quest'umorismo pecero. Parla bene, usa l'educazione, è chiaro? Ok, passiamo alla prossima. Che sono indietro con il programma perché non si capisce un c***o in video lezione? Beh, in quel caso... Aspetta, aspetta, com'è che si chiamava quel servizio fantastico ed economico in grado di fornire senza problemi supporto su tutte le materie anche a distanza? Mannaggia, non me lo ricordo proprio. Scuola.net ripetizioni Ti lascio il link in descrizione e non dirlo ai tuoi compagni. Adoro! Wow, addirittura in maiuscolo? Cioè, lo hai urlato mentre lo scrivevi? Adoro! Tipo così? Sei così emozionata? Più emozionante di quella volta che avevo dimenticato come ci si siede. Che è meglio del co... Avanti, dillo! No. Avanti, dillo! Così non farai un euro da questo video. Neanche i soldi per il panettone ti faccio fare. Vabbè, facciamo finta di niente. Meglio studiare a distanza che rimanere ignoranti a vita. Beh, dai, non tutti diventano ignoranti, su. Quindi chiedi tutto quanto fa, con le a**e! Più o meno. Se il video ti è piaciuto ti invito a mettere un like a questo video. Se no... Non è che mi cambia la vita, eh? Sta a fare prezioso. Cioè... È stato un anno duro un po' per tutti. Quindi ci tenevo da parte mia e da parte di Scuola.net ad augurarvi un buon Natale. Buone feste. Quindi buon Capodanno, buon Epifania. Insomma, con quello che poi c'è stato. Forse è in ose ritorna e un po'... Vabbè, comunque. Avete capito. Nella speranza di un 2021 un po' più sereno. Non dico tanto. Un pelino proprio. Mh? E' calo. 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 Il pareggio con l'Inter, gli scarti sottina, il serremo con l'esavaggio. E' mi risale tutto ciò che ho preso. Come sale la febbra alle cinque. Sotto casa mi urli come un Capodrano. N'è ma palà. Ecco, ecco là.